Agli Odoo Days abbiamo un altro rappresentante di OpenForce, Filippo Agostinelli, che ci parla di un altro argomento molto interessante, il dashboard in Odoo. Altra new entry, altro applauso. Buon lavoro. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Filippo Agostinelli, un account manager di OpenForce, e oggi vi parlerò di un case study, di dashboarding in Odoo. Partiamo innanzitutto dicendo che cos'è il dashboarding. Il dashboarding è una metodologia di visualizzazione, una reportistica di dati, che mi permette di avere degli insight, quindi delle informazioni grafiche, perché questa cosa è la più importante di tutte, in maniera sintetica, veloce e dinamica. Rispetto a un classico report XLS, lo scopo del dashboarding è proprio quello di avere delle informazioni che siano fruibili in maniera power user, attraverso degli strumenti, delle funzionalità, come ad esempio il filtraggio di tutti i grafici che ho a disposizione nella mia dashboard, attraverso lo slicing, che è un'operazione di riduzione della mole di dati che sto osservando, e ad esempio anche il drill down, che è il passaggio di una gerarchia ad una gerarchia inferiore. Quindi partiamo subito dalla richiesta del cliente, visto che parliamo di un case study, la richiesta del cliente era una costruzione di un sistema di reportistica in Odoo per avere appunto dei report navigabili e filtrabili su dati relativi ad ordini di vendita, ordini di acquisto e contratti. Aggiungo subito una cosa, quando parlo di contratti, parlo di un nostro modulo OpenForce che aggiunge un layer al progetto, che appunto è il contratto, e quindi mi permette di avere tutto un flusso che parte dal contratto, con cui appena lo scensisco, lavoro su un progetto, ottengo sul progetto, scensisco un capitolato, quindi una serie di prodotti da cui posso veicolare comportamenti di acquisto e di vendita, quindi posso avere tutta la gestione del contratto, come vedremo alla fine in una delle dashboard. Allora, la soluzione utilizzata per realizzare questa richiesta è stata la sperimentazione di un modulo terze parti di dashboarding che abbiamo migliorato perché all'inizio non era troppo funzionante, quindi abbiamo debuggato e implementato per la costruzione di dashboard e analisi. Adesso vi spiegherò meglio come si intende il dashboarding che ho descritto prima in questo modulo. Parliamo infatti di due elementi chiavi in questo modulo, ovvero dashboard e analisi, come ho detto prima. La dashboard è un contenitore di molte analisi, quindi di molti elementi grafici, dove all'interno delle analisi, come vedremo meglio dopo, potremo interrogare e reperire più data sources attraverso diverse metodologie. Ma partiamo appunto dalla dashboard, il nostro contenitore. La dashboard, oltre ad essere un insieme di analisi, può essere inserita all'interno di specifiche app di Udo. Quindi prendiamo l'esempio che ho a che fare con una dashboard direzionale, per il board, potrei appunto inserirla all'interno della contabilità, delle sales, e soprattutto legarla a determinati gruppi utenti. Quindi posso scegliere di dare dei specifici permessi alla dashboard. Non solo questo, perché potrei scegliere anche di aumentare la granularità dei permessi, legando appunto gruppi utenti a determinate analisi. Quindi granularizzare il grado di accesso alla dashboard e all'analisi per determinati gruppi utenti. La dashboard ha degli elementi di testata. Ad esempio, posso avere dei filtri, questo modulo di default offre sempre un filtro di tipo data, che è un calendario generico. Quindi non parliamo di campi data, ma proprio un calendario che a cascata posso far interagire con tutte le analisi sottostanti. Poi vedremo meglio l'utilizzo delle date nelle analisi. Inoltre posso inserire ovviamente altre tipologie di filtri di testata che agiscono non in maniera, diciamo, a cascata su tutte le analisi, ma su quelle in cui io le linko. Quindi posso scegliere anche a livello di testata come filtrare i dati che voglio vedere. Nelle analisi, ovvero i miei grafici, ho diverse possibilità di interrogazione dei dati. Posso esporre i dati che mostro attraverso grafici standard e custom, come vedremo meglio dopo. Anche qui, come io ho già detto prima, posso utilizzare determinati gruppi utenti, quindi utilizzare permessi specifici per la visualizzazione dei miei dati e applicare quelle operazioni che vi dicevo prima di drill down, quindi gerarchizzazione del dato, per andare più in profondità, o di roll up, quindi anche se volessi avere una visione più ampia del dato, di una gerarchia superiore, potrei tornare, diciamo, ad uno stadio di focus maggiore. Passiamo ora effettivamente alla costruzione, dall'analisi a una dashboard. Quindi, come possiamo, diciamo, qual è il primo step? Il primo step è quella della scelta della modalità di interrogazione dei dati, ovvero come reperisco le data sources per la mia analisi. Come vedete, nel grafico, diciamo, nell'immagine a destra, la prima cosa che l'analisi a livello configurativo mi offre è la scelta della data source. Come vedete scritto lì, la data source è UDU. Potrei scegliere, ovviamente, i dati che ho all'interno del mio ERP, ma potrei anche scegliere di connettermi a un DB esterno, un DB postgres. Quindi, scegliendo quella soluzione, mi legherei a un server, a determinate porte da configurare, e potrei avere accesso a tutti i dati di quell'istanza. Una volta scelta la data source, il metodo, che è la cosa più interessante che offre questo modulo, rispetto anche all'app Bacheke, è la possibilità, innanzitutto, di estrarre tramite ORM di UDU i dati da uno specifico model. Quindi potrei connettermi al model delle sales e reperire tutti i dati per fare le mie analisi. Potrei utilizzare una query custom, quindi mergiare i dati tra più model di UDU, e quindi anche creare delle metriche ad hoc che in UDU in questo momento non ho, e mostrarle nella mia analisi. E posso utilizzare anche tabelle di tipo MART. Sulle tabelle di tipo MART, aggiungo, questo è un concetto un po' che viene dalla business intelligence, ovvero sono delle partizioni, dei subset di dati, di tabelle, per migliorare l'efficientamento e l'interrogazione dei dati, ovvero creo e scalo la mole di dati da interrogare se ho un database veramente ampio e reperisco i dati in maniera più organizzata e ordinata. Inoltre, sempre dalla configurazione delle analisi, posso scegliere sin da lì il visual type, come vedremo fra poco, quindi lo strumento grafico che sto utilizzando, e limitare le occorrenze che voglio vedere all'interno del mio grafico. Allora, una volta scelta la metodologia di interrogazione dei dati, ovviamente devo scegliere che dati rappresentare nella mia analisi. I dati, questo modulo, li distingue tra metriche e dimensioni. Ovviamente le metriche sono i dati quantitativi, quindi parliamo di quantità o prezzo, ad esempio, e dimensioni, dati qualitativi, quindi campi di tipo text, di tipo char, ma anche date. Le date vengono sentite dal modulo come delle dimensioni. La cosa, come potete vedere nell'immagine a sinistra, che è importante, è l'operatore con cui aggrego le mie metriche. nativamente questo modulo offre tre tipi di operatori. Offre la sum, quindi posso sommare le occorrenze metriche che sto utilizzando, posso utilizzare leverage, quindi fare una media, e come vedete adesso nell'immagine ho anche a disposizione il count, quindi in maniera SQL-like è il count distinct delle occorrenze. Infatti, in questo esempio, sto contando degli id rispetto al dato che sto osservando. Per quanto riguarda il discorso sulle date e sulle dimensioni, le dimensioni non hanno operatori aggregativi, tuttavia le date sì, perché le date ci permettono di essere riconosciute come tali e di avere una gerarchizzazione che va dall'anno alla singola settimana. E quindi posso spaccare la granularità, appunto, mettendo ad esempio una data nell'asse delle ascisse, per il fatto stesso che sia una dimensione, così da gerarchizzarlo e poter interrogare in maniera più focussata. Posso aggiungere all'interno dell'analisi anche un campo, una metrica, una dimensione con cui ordinare l'analisi stessa, come vedete, ad sort. E adesso passiamo appunto allo strumento, la parte principale di dashboarding, che sono i grafici che questo strumento offre. Come anticipavo prima, sono sia grafici standard che grafici custom. Qui ne vedete alcuni. nell'immagine a sinistra vedete praticamente tutte le possibilità che lo strumento offre. Abbiamo quindi i classici grafici di tipo torta, di scatterplot, mappe, tabelle, scorecard, pie chart, error chart, bullet chart, quindi tutti i principali grafici di dashboarding. Mi soffermo un attimo visto che si parla di dashboarding e sull'utilizzo anche che se ne può fare di questi strumenti, perché all'interno della costruzione di una dashboard di solito si utilizzano anche impropriamente dei grafici. Ad esempio, una pie chart ha valenza di significatività una torta quando abbiamo a che fare con poche variabili. Ovviamente, parlavo prima di dashboarding, quindi di impatto grafico dell'insight e dell'informazione. Se sto valutando poche variabili, è giusto che posso utilizzare uno strumento come la torta che mi permetta appunto di averle sott'occhio subito perché l'idea del dashboarding è proprio quello di l'evoluzione di una riportistica che lavora con tantissimi dati e quindi devo poter subito a colpo d'occhio fruire di quell'informazione. Lo scatterplot invece che è lo strumento che vedete del piano cartesiano che vedete in alto a sinistra è appunto un piano cartesiano dove posiziono delle coordinate x y che mi creano una serie di punti nel grafico e come in questo caso se i punti possono tracciare una retta allora si parla appunto di regressione lineare quindi c'è correlazione effettivamente tra i dati che sto osservando nell'asse delle ordinate e nell'asse delle ascisse. Dico subito che questo strumento mi permette come ad esempio nella torta di fare operazioni immediate di drill down quindi se clicco in una dashboard in uno spicchio della mia torta supponendo che in questa torta ci sono dati di SO magari sto spaccando la torta per SO e tipologia di fatturazione non fatturati o in attesa di fatturazione cliccando in uno spicchio io ottengo tutte le occorrenze tutta la tri del model degli SO che posso navigare appunto uno per uno e quindi l'operazione di drill down è immediata altresì posso anche scegliere di aggiungere delle girarchie di drill down con altri grafici quindi se voglio spaccare il dato che sto osservando posso anche inserire ulteriori grafici e ulteriori dimensioni o metriche con cui voglio spaccare con l'analisi che sto osservando più o meno tutti i grafici che avete qui a disposizione sono appunto interattivi e mi permettono di avere appunto l'utilizzo di questa funzione di drill down automatica allora un'altra possibilità di realizzazione grafica del modulo in realtà sono due è quella di customizzare i grafici che ho a disposizione posso legare al modulo delle librerie javascript che inserisco all'interno del modulo oppure posso anche interrogare eh sì interrogare posso direttamente inserire all'interno dell'analisi in una sezione chiamata visual script editor direttamente del codice per gestire un grafico quindi senza passare lato lato codice apro questa interfaccia e manipolo il mio grafico direttamente dall'app adesso passiamo ad alcune dashboard realizzate per il progetto così vi faccio vedere anche appunto l'utilizzo di tutto quello che ho descritto poco fa questa ad esempio è una sales dashboard dove ho due scorecard e una pie chart il metodo che ho utilizzato ovviamente è la data source di Odoo e mi sono connesso al model degli SO ho utilizzato per i due elementi a sinistra delle scorecard e per la pie chart ho utilizzato sempre appunto il model degli SO ci sono appunto nel grafico in alto a sinistra il totale dell'amount degli SO quindi l'occorrenza degli SO che sto osservando la media dell'imponibile e poi uno spaccato della torta per tipologia di fatturazione rispetto a quello che vi dicevo prima gli elementi di testata li potete vedere lassù e quindi abbiamo un filtro di anno che è un calendario e un category contract perché stiamo ricordatevi lavorando sempre anche su ammonte con dei contratti quello che non ho detto prima è che all'interno di ogni singola analisi tra le varie possibilità che abbiamo di inserimento è l'inserimento di determinati campi data quindi io in testata è vero che ho un calendario però mi fa selezionare il time frame di osservazione l'elemento data con cui scelgo l'interrogazione del time frame lo metto all'interno delle analisi e quindi ogni analisi potrebbe avere un campo data per cui lo interrogo diverso dalle altre posso scegliere ovviamente anche come dicevo all'inizio come interagire a livello di testata con i singoli grafici con le singole analisi quindi potrei correlarle tutte e quindi agire a cascata sui filtri oppure slegarne alcune e inserire direttamente dei filtri all'interno dell'analisi la cosa che dicevo prima del drill down la potete vedere sotto se clicco su un dato che già sto filtrando ottengo ovviamente la tri in questo caso degli SO e delle occorrenze che sto vedendo che ho magari filtrato già per data e per una tipologia di fatturazione l'altro caso che era appunto il caso di una realizzazione di una tabella che mi calcolasse il margine del contratto per progetto è stato ottenuto come potete vedere sotto attraverso una query quindi ho potuto attraverso questo strumento creare una metrica che era il margine che non avevo in UDU e ottenere appunto uno spaccato del margine per contratto le misure che sono state usate ovviamente sono state riperite da tutti i model della query quindi dal model degli SO da IPO il margine è la misura che ho creato e così sono arrivato appunto a una misura del margine il modulo nativamente come vi dicevo offre anche una tabella che non è che non è troppo interattiva perché è abbastanza statica e quindi stiamo lavorando sull'implementazione anche di ulteriori strumenti grafici come ad esempio una pivot cosa che nativamente non ha per poter spaccare ovviamente andare in drill direttamente all'interno di una singola tabella quindi riassumendo diciamo le potenzialità e i gradi di interesse del modulo sono proprio dati dal fatto del merging dei dati dalle possibilità grafiche che si hanno a disposizione e per cui è molto promettente contiamo appunto di svilupparlo sempre di più io vi ringrazio per l'attenzione se ci sono delle domande prego voce sa grazie Filippo grazie a voi molto interessante prima domanda no è Marcello è lì una sola ah ok quindi prima hai fatto fare la domanda a tuo fratello adesso il tuo collega mi porto gli amici ok e vi do fuori ciao ciao volevo fare una domanda per quanto riguarda i filtri oltre a quello data nativo sì credo nelle varie KPI funzionano anche gli altri aggiuntivi o ok sì sì puoi crearne quanti ne vuoi e puoi ovviamente reperirli dai dai model di U2 o crearne di tuo insomma ok è possibile fare anche un'estrazione di tutte queste informazioni per replicarli in altre istanze in che senso scusa nel senso poter installare le stesse dashboard su più istanze differenti cioè questa configurazione è tutta da fare lato manuale sì esatto per replicarli in un'altra istanza di un altro cliente devo rifare tutte le stesse cose manualmente o c'è un metodo di spazio no in questo momento non c'è un connettore esatto poi devi riperformarle manualmente ok aspetta che ha una domanda invece ok no non la faccio qui c'è una domanda prima fila ci sta prendendo gusto Marcello volevo chiederti è sempre in merito i filtri abbiamo detto che appunto è un filtro relativo alla data però ti volevo chiedere qualora avessimo una serie di dati con un grafico a istogramma e io volessi andare a filtrare per esempio per un determinato anno piuttosto che per un altro il grafico riuscirebbe ad adattarsi solo ed unicamente a quell'anno lì cioè nel senso è comunque terattivo cioè si riesce a tirar giù soltanto quel campo di interrogazione quel time frame ovviamente sì ti si riperforma tutti i grafici rispetto appunto alla data che hai messo tu nell'analisi quindi anche visivamente i dati cambiano ovviamente ok quindi insomma si adatta in automatico in base al filtro che andiamo a mettere lì esattamente e in base al grafico che abbiamo scelto esatto ti cambierebbe il numero dell'occorrenza degli SO ti cambierebbe la conformazione della torta quindi graficamente ti si ricompone tutto ok chiaramente con qualsiasi tipo di grafico assolutamente quello sì è proprio l'idea della dashboard della standard ovviamente questo lo fa certo grazie prego il giovanotto in prima fila senti ne riguarda i permessi degli utenti nella lettura dei dati per esempio il modulo di dashboard di Odoo in base all'utente che ha i suoi permessi per accedere ai dati può vedere soltanto determinate cose in questo caso viene rispettata questa regola o è il a livello di cd creazione anche delle dashboard di furibilità no no proprio di lettura dei dati e quindi di analisi del risultato dei vari grafici attualmente i gruppi utenti lavorano proprio sul permesso della visualizzazione di strumenti quindi se la domanda è a riguardo proprio la possibilità magari di entrare in modalità di configurazione e quindi di cambiamento dei no per esempio tu puoi definire un utente che accede soltanto alle proprie vendite sì esatto è un altro utente che è responsabile che vede le vendite di tutti quanti quindi i due utenti vedranno gli stessi dati o vedono solo i dati per i quali loro hanno i permessi nella struttura nativamente a livello di permesso è legato appunto non a una gerarchizzazione dei dati ma proprio alla visibilità dello strumento visivo quindi non ti fa un subset rispetto ai permessi che hai ma rispetto alla dashboard stessa o le analisi grazie allora tu stesso prima hai detto che manca la pivot sì l'avete in previsione tra quanto per esempio ci stiamo lavorando perché dobbiamo scegliere anche la libreria ottimale da importare e configurare all'interno del modulo perché ovviamente come dicevo prima devi anche scegliere l'elemento grafico l'elemento anche da libreria da importare e modellare per lo strumento quindi contiamo nei prossimi mesi di portarla all'interno del modulo e lo strumento che utilizzate per fare le query è uno strumento è built in è testo oppure sì sì è testuale è testuale ma è anche di tipo grafico nel senso che uno non c'ha la possibilità diventamente di montare la query oppure è semplicemente testuale e come fai a misurare la prestazione se quella query con posti di collega al discorso facciamo prima delle query a livello prestazionale questa è una domanda che è tecnica per cui non riesco a darti una risposta abbiamo l'aiuto da casa quando progetti la query tu devi anche valutare gli indici sui campi quindi devi valutare determinate situazioni quindi questo strumento è uno strumento che dovrebbe essere utilizzato da qualcuno che ha una visione anche di questo tipo non può essere rilasciato a un utente diciamo meno schillato su questi temi allora sono d'accordo sotto questo punto di vista però noi abbiamo un collega che è specializzato sulle query e diamo supporto ai clienti per fare in modo di ottimizzare le query che vanno a fare in maniera da ridurre al minimo il problema che esponi il fatto che uno potrebbe creare una query che è lentissima e magari andare a storare dei cambi che non sono storati e cose del genere in maniera che poi la query ha delle buone performance ora Mari non ottima ma si ha delle buone performance poi sarebbe Pirozzi per fare una rettizione dopo l'altro signore sarebbe Pirozzi abbiamo un lead c'è una mano alzata eccolo lì guardalo pronto a rispondere adesso replica lui ti dico in base alla mia esperienza normalmente allora tu scrivi la query ok dici dove puoi mettere gli indici ma normalmente il database non esegue la query come la scrivi tu quindi fondamentalmente cosa fai fai un'analisi diciamo a ritroso quindi vai sulle tabelle di sistema in questo caso Postgres o quel che sia o vai sui log analizzi un log tipo con un pg budger e vai a vedere effettivamente se la query è lenta ability auto explain in Postgres e vai a vedere se la query è stata lenta o non lenta però sai qual è il problema il problema è che la query viene eseguita in base al carico che ha la macchina in quel momento quindi in test tu puoi avere anche lo stesso database identico ma non è detto che la macchina di produzione funziona nello stesso modo come la macchina di test capito si 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 no funziona così e quindi una cosa che normalmente io faccio nelle ultime versioni di Postgres se possibile ma anche quelle un po' più precedenti è andare a abilitare l'auto explain quindi tu nel log hai la query e l'explain della query reale che ha fatto la macchina di produzione e lì ti rendi conto se ha preso un abbaglio il planner o non l'ha preso capito è un po' complessa la cosa è semplicissimo però comunque mediamente tu butti due tre indici dove secondo te chiaramente se fai una query su una tabella e fai where condizione lì ci metti un indice ok va anche se non è sempre vero che funziona l'indice perché per esempio in Postgres se tu in una query su una tabella tiri fuori più del 55% dei dati lui l'indice non lo usa ma perché non ha senso non ha senso andare su un file di indice per tirare su quasi tutti i dati della tabella capito quindi non è detto che il comportamento del DB sia esattamente lo stesso di quello che ti aspetti ecco non so se ho risposto più o meno ok bene a questo punto facciamo un applauso a Filippo grazie a tutti